Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per incidente è avvenuto al chilometro 345 un chilometro di coda tra Valtarno e Arezzo. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno in uscita in direzione sud. Sul raccorto Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e imprunita greve inchianti con possibili disagi alla circolazione. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Fino al 9 marzo chiusa la funnicolare di Certaldo per lavori attivo servizio di trasporto alternativo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!